Beh, sicuramente è stata una bella emozione. Poi sono qua da poco, ho trovato un gruppo molto unito e diciamo che la cosa più importante in questo momento era fare i tre punti perché ci dobbiamo allontanare in più possibile dalla zona play-out ed evitare assolutamente di farli per poi pensare ad altro. Però sono molto contento, dobbiamo uscire da questa situazione il prima possibile. Beh, sicuramente c'è stato Vincenzo che ha portato palla sulla fascia, ha fatto partire un bel cross e sono stato bravo a prendere il terzo tempo. Poi la palla è finita sul secondo palo e è stata una bellissima emozione. Sicuramente durante la mia carriera non ci sono state situazioni sicuramente fortunate. Avevo bisogno di cambiare aria, di nuovi stimoli e questa secondo me è la piazza esatta. Sono veramente contento.